Ora andiamo in un centro sportivo di proprietà della diocesi milanese dove però si allenano anche quelli che potrebbero diventare i futuri campioni del Milan. 240.000 metri quadrati alla periferia sud di Milano. Qui ci sono campi di calcio, una piscina, una palestra e soprattutto centinaia di ragazzi. Centro sportivo Peppino Vismara, quartiere Gratosoglio. Una struttura sportiva e riabilitativa passata da poco alla fondazione Don Gnocchi. Di proprietà della diocesi, una parte del centro viene utilizzata anche dal settore giovanile del Milan che ha ufficializzato dopo sei anni la gestione diretta di cinque campi di calcio, stadio e una palazzina. Obiettivo del Vismara quello di promuovere l'azione educativa dei più piccoli attraverso lo sport. Lavorare insieme possa aiutare noi a raggiungere le finalità ma anche Don Gnocchi e soprattutto Milan a non dimenticare il valore per il quale lavorano. Quindi l'educazione dei giovani, servizio a chi ha bisogno, mettere a servizio di tutti queste grandi eccellenze. La fondazione Don Gnocchi si occupa invece dell'attività socio-assistenziali con un centro di urno disabili e uno per minori segnalati dai servizi sociali, una comunità socio-sanitaria e un centro di riabilitazione. La fondazione si farà carico anche di rilanciare queste attività con particolare attenzione alla vocazione originaria del centro. Noi vorremmo far diventare il centro Vismara un punto di eccellenza anche per lo sport che riguarda i disabili, tutte le attività paraolimpiche. È un sogno per adesso, un progetto ma che certamente cercheremo di costruire.